Emergenza Ungulati dopo un dibattito particolarmente acceso. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che permette l'abbattimento straordinario dei cinghiali. Una legge per tutelare l'agricoltura e la sicurezza delle persone, sostiene il PD. Mentre il Movimento 5 Stelle e gli animalisti attaccano il provvedimento che a sorpresa non convince nemmeno i cacciatori. Sentiamo Silvia Ferretti. Si preparano tempi duri per i cinghiali in Toscana. Con i voti favorevoli di PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia, il Consiglio regionale ha approvato la legge che dà il via libera ad un abbattimento straordinario degli ungulati nei prossimi tre anni. In alcune zone i cinghiali potranno essere cacciati addirittura tutto l'anno. Contrari Movimento 5 Stelle e Sì Toscana a sinistra, mentre Lega Nord si è astenuta. Obiettivo della legge, definita in accordo con l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ridurre il numero di daini, cerbi, caprioli e cinghiali, oltre 400.000 in Toscana, un numero quattro volte superiore rispetto alle altre regioni. Lo dimostrano i danni ingenti all'agricoltura, la numerosità degli incidenti stradali, poco meno di mille nel 2015, soprattutto dal punto di vista tecnico scientifico non ci sono evidenze che consentono di aggredire in tempi brevi questo problema con strumenti diversi da quelli che sono messi in campo. Contesta i dati sulla presenza degli ungulati e soprattutto i metodi con cui la legge sarà attuata è il Movimento 5 Stelle. L'utilizzo di metodi cruenti, gravi rischi per la sicurezza, il turismo naturalistico in Toscana perché per tutto l'anno in alcune aree si potrà sparare. Già adesso abbiamo spesso a che fare con cacciatori che arrivano fin sotto le case. Si è stato l'esempio di Grassina pochi giorni fa dove una battuta di caccia si è spinta fin sotto il cortile di una scuola. Soddisfatta col diretti mentre per gli animalisti sarà una strage che servirà solo a dare nuovo impulso agli armieri. E un po' a sorpresa critiche arrivano anche dalla Confederazione Cacciatori Toscani, un provvedimento rigido, insufficiente e contraddittorio che mette a rischio l'efficacia della legge stessa. Grazie.